Il voucher consente di pagare l'ora di lavoro, sono 7,5 euro netti in tasca al lavoratore, con contributo previdenziale, rispettando la normativa e quindi mettendo anche il datore di lavoro in una posizione di legalità e di rispetto della norma. Dal 1 gennaio 2023 tornano i voucher, i cosiddetti buoni lavoro, cancellati nel 2017 dal governo Gentiloni e introdotti per la prima volta nel 2003 come forma di pagamento alternativa in caso di lavoro occasionale, accessorio o di prestazioni saltuarie. Se per alcuni rappresentano un ritorno al passato, i voucher vengono maggiormente disciplinati dalla nuova legge di bilancio del governo Meloni e potranno essere utilizzati esclusivamente nei settori dell'agricoltura, nel comparto Horeca, e cioè l'acronimo per albergo, ristorante e bar, e nel lavoro domestico, ma solo fino alla soglia massima di 10.000 euro in 12 mesi. Tutti gli strumenti agili che rendono il lavoro meno statico, meno ingessato, sono utili per aiutare imprese e lavoratori a superare questo momento di difficoltà. Nell'estate 2022 trovare personale per le imprese è stata una delle questioni più gravi di tutta la stagione. Viene così raddoppiato il tetto di reddito accettabile per le prestazioni occasionali, fissato precedentemente dal DL Dignità, a 5.000 euro in 12 mesi. Tutti potranno essere pagati a voucher, non soltanto pensionati, disoccupati, under 25 e per cettori di reddito di cittadinanza. Le critiche però non mancano ad arrivare dal mondo sindacale, ribadendo che con una soglia di 10.000 euro non si tratterebbe più di un lavoro prettamente occasionale, ma anzi, in alcuni casi, di lavoro continuativo cammuffato, incentivando così forme di precariato estremo e lavoro povero. Non è una sostituzione del contratto di lavoro, è un lavoro accessorio, cioè deve essere pensato e interpretato correttamente come quello che vuole la norma, altrimenti sì siamo nella situazione di abuso che va al di fuori di quello che prevede la legge. Confesercenti accoglie pienamente la reintroduzione dei buoni lavoro e vorrebbe l'estensione dell'utilizzo dei voucher a tutto il comparto del turismo, che continua ad avere grosse difficoltà nel reperire personale e mantenere quindi quella flessibilità nel gestire i picchi di lavoro inattesi durante la stagione. Se il voucher è un elemento snello per poter attirare nuove figure di giovani che magari vogliono lavorare nei momenti di picco di stagione, nei weekend o in situazioni di necessità, il voucher è uno strumento veramente utile.